Le lesioni della parete della scuola ci dicono e ci fanno notare che effettivamente è un problema abbastanza serio, bisogna trovare fondi necessari per il consolidamento della struttura che è stata dichiarata inagibile e quindi speriamo che sia abbastanza veloce la soluzione e la risoluzione di questo problema. In tutti i comuni finanziati dallo Stato e dalla Regione con i decreti per l'edilizia scolastica, tra questi comuni non c'è il comune di San Marco d'Alunzio, cioè sfogliando le graduatorie e i bandi dei comuni finanziati non c'è il nostro nome. L'amministrazione, se c'è, è presente, doveva già intervenire qualche anno fa per non creare tutti questi disagi che si sono creati perché le scuole medie sono state trasferite nei locali delle scuole elementari. Là purtroppo si è costato anche con la mensa che l'amministrazione purtroppo inizialmente era decisa a non fare più ma che ci ha ripensato grazie all'intervento di noi genitori. Io ho due figli, ho due figli a scuola e devono poter studiare nel miglior modo possibile, nei locali adatti, sicuri e qua penso che l'amministrazione è giusto ed è doveroso per i cittadini all'untini che si prenda la propria responsabilità e che faccia quello che va fatto. I locali vanno ristrutturati.